Eccoci Enrico, grazie col cuore. Io ho scelto, abbiamo scelto di esserci perché pensiamo che la crisi del Partito Democratico sia profonda, ma sono anche convinto che senza questo partito aperto, rifondato, l'Italia sarebbe un paese peggiore. E allora ci siamo per provare ad allargare e per dire a tanti che non hanno più creduto in noi che esiste sempre il giorno dopo e che questo partito può rialzarsi, può riscattarsi e collocare i suoi valori e le sue idee nella storia d'Italia dei prossimi anni. Per questo ci sono senza presunzione e con grande umiltà, perché in discussione questa volta siamo noi ed è il nostro destino. Per questo penso che il congresso sia il congresso più importante da quando il PD è nato e lo è prima di tutto perché oggi al governo c'è la destra, ma non la Merkel e neppure Berlusconi col suo infinito conflitto di interessi. Oggi al potere c'è l'ideologia di una destra che in tre mesi ha mostrato la sua anima. Migranti come ostaggi per mostrare che la pacchia è finita, condoni agli invasori, la povertà trattata come una colpa da espiare. Forse solo per questo il dovere che abbiamo è costruire un'alternativa per quando si tornerà a votare. Allora la prima proposta è che nasca una rete aperta di comitati per l'alternativa, che si scelga di far crescere dal basso la spinta capace di combinare l'indignazione, la rabbia che nel Paese cresce, assieme a un'ambizione di giustizia e a quella uguaglianza scolpita nell'articolo 3. La seconda proposta è che la costituente continui nel dopo. È giusto che il manifesto integri, la carta dei valori pensata alla nascita del PD, la integri nel segno di quanto da allora è cambiato ed è moltissimo. A me, a noi, piace pensare che dentro quel percorso si costruisca una grande conferenza sulla scienza, l'algoritmo, l'innovazione, dedicata a pensare la sorte del Paese con un coraggio, se volete, anche con quella dose di utopia che da sempre è l'anima di una politica non ripiegata sulla realtà così com'è, a partire da un'impresa, un'industria che sanno innovare e rilanciare la crescita in senso ecologico, nel segno di una sostenibilità economica, ambientale, sociale. Senza investire, senza innovare, senza crescere, questo Paese è condannato al declino e a non avere le risorse per il riscatto di chi parte, e sono tanti, dal fondo della fila. Sono bastati pochi anni e miliardi di persone nel mondo hanno cambiato il loro modo di pensare, di conoscere, di vivere la relazione con gli altri. Alcuni, pochi, si sono spaventosamente arricchiti, molti si sono risvegliati senza più legami a una dimensione comune dei loro bisogni. Le chiamano diseguaglianze, anche noi le chiamiamo quasi sempre diseguaglianze, ma noi siamo la sinistra, dovremmo chiamarle col loro nome, sono ingiustizie profonde, sono ingiustizie profonde al punto da divenire immorali. Io penso che la risposta a tutto questo sia anche nel riscoprire il significato di un ordine, da non porre mai in contrasto con un principio di libertà. Il punto è che senza un ordine condiviso, la stessa libertà si restringe all'individuo singolo, allontanandosi dallo spirito della nostra Costituzione. A quel punto l'universo economico, sociale, culturale, percepito come sempre più distante in una logica dove le ingiustizie si accentuano perché, in assenza di un ordine condiviso, a vincere sono sempre i più forti. Per questo io penso che oggi la sinistra ha il compito di ricostruire legami sociali e di fraternità, non una fratellanza. L'ho imparato in una bellissima giornata allo sturzo dei cattolici democratici, non una fratellanza, figlia di legami di sangue, una vera fraternità che è la consapevolezza di essere accomunati in uno stesso destino, ricomporre legami sociali, un compito che la sinistra conosce bene perché nella storia, nella nostra storia, lo ha saputo svolgere questo compito, verso il mondo del lavoro, verso i saperi, i giovani, le donne, ma proprio la tendenza a rendere più isolate le persone ha indebolito la nostra capacità di dare voce, volto e potere a pezzi di società orfani di diritti, di un reddito, di una speranza di vita per sé e per le persone che a loro sono più care. Le scorciatoie di populismi e nazionalismi hanno cavalcato quell'onda, sfruttando la rabbia di troppi. Io penso che sia il nuovo PD trovare parole, contenuti, reputazione per dire che un'alternativa è possibile nella vita delle persone come nei conflitti del nostro tempo e se è così allora io penso che un partito democratico non può, semplicemente deve tornare a spendersi sul capitolo della pace, del disarma atomico, delle libertà e delle responsabilità nelle scelte della vita perché la parola pace è nella sua bellezza radicale, significa tante cose diverse, l'integrazione dei migranti, la cooperazione, le relazioni tra gli stati, i governi. Non è un valore astratto la pace, è una politica, è una visione del mondo, che si tratti di come crearla la vita nel mondo o di come concludere l'indignità, che si tratti del diritto, della possibilità, della libertà nell'amare rispettando se stessi e la propria coscienza. Pace oggi vuol dire difendere l'Ucraina, non esitare su questo, centinaia di miliardi di morti, milioni di profughi, un paese violato, distrutto. L'Occidente ha le sue colpe? Sì, sì, ma nulla, letteralmente nulla assolve quel crimine contro un popolo e uno Stato sovrano. E allora una preghiera da laico, quale sono, mi sento di fare, di fronte a questa tragedia, non subiamo il ricatto di chi pensa di speculare sulle nostre divisioni. Se la Russia smette di combattere, finisce la guerra. Se l'Ucraina smette di difendersi, finisce l'Ucraina. Questa guerra sta cambiando la geografia politica del mondo, con un fronte anti-occidentale che aggrega una maggioranza della popolazione globale, dobbiamo saperlo, ma non basta quella ragione a rinunciare ai principi della nostra idea di libertà. Lavoriamo per una tregua, perché le armi cessino e i missili smettano di cadere, i progressisti spingano l'Europa a un'iniziativa più forte, politica, diplomatica, con una voce che coinvolga Washington e Pechino. Noi vogliamo la pace, ma una pace giusta. Questo dobbiamo essere, un partito che in questo mondo è al fianco delle lotte necessarie, perché è giusto dire che siamo con le donne in Iran, avete ascoltato Shadi o a Kabul. Meno facile sostenere che la difesa dei diritti umani deve precedere sempre gli interessi dell'economia o di una finanza speculativa. Ecco, noi con tutta l'umiltà nel Congresso entriamo per raccontare una visione di questo partito, convinti che la sua funzione sia ancora più necessaria nell'Italia dei prossimi anni. Lo so, c'è chi ha detto che siamo arrivati tardi. Io vorrei dirvi che se abbiamo atteso un giorno in più è perché speravamo che questo confronto avesse un taglio diverso. Speravamo che questa volta vi fosse, dinanzi alla crisi che ci ha investito, la voglia di partire dalle idee, da una discussione sincera sulle ragioni del dopo, su come riscattare il progetto più ambizioso che le culture del riformismo italiano hanno avanzato nell'ultimo mezzo secolo. Noi siamo partiti da qui, dalla convinzione che senza un partito cambiato, rifondato, tutto rischia di rimanere appeso in un presente che ci ha visti sconfitti. Ecco perché ci siamo. Vedete, abbiamo conosciuto altre sconfitte, ma questa, l'ultima, è diversa perché si è consumata quando la democrazia nel mondo è sotto attacco e perché da un fronte e dall'altro delle opposizioni c'è chi vorrebbe svuotare questo simbolo, mentre il mondo ci riporta la ragione per cui il PD è nato. E quella ragione vive in due parole, la prima è l'aggettivo democratico. Definirci così è stata allora una scelta in fondo di intuizione, dobbiamo essere negrati a Romano Prodi e Walter, ma oggi quel termine è qualcosa di diverso, di ancora più profondo, è l'appiglio decisivo perché segna il più grande conflitto che attraversa l'Occidente e non solo, quello tra democrazia e autoritarismo. E l'altra parola è partito. In quella sintesi, partito democratico, c'erano le biografie collettive della sinistra storica di questo Paese, socialista, comunista, azionista, del cattolicesimo democratico, dell'ambientalismo, del pensiero femminista, della cultura dei diritti. C'era la consapevolezza che per fare fronte ai mutamenti davanti a noi e dentro di noi nessuno poteva più bastare a se stesso. Ecco perché se venisse a mancare anche solo un pezzo, anche solo una di quelle culture, verrebbe meno l'ambizione del progetto. Ed è bellissima la presenza oggi di Roberto e delle compagnie di Articolo 1 che scelgono di percorrere assieme questo tragitto. Noi abbiamo scelto di rimanere in questo partito anche in momenti difficili e la scelta di oggi in qualche modo ricompone una frattura che anche col seno di poi io non avrei voluto vivere ma che abbiamo vissuto. Oggi in questo tempo le innovazioni sul fronte della tecnica e della cura assieme a guerre, carestie, tributi di sangue impongono di tradurre a quella intuizione la democrazia come cardine, come valore nel presente. E allora è certo che a noi serve una mappa di traguardi da tagliare, salari più alti, il diritto alla salute, sono state dette cose giustissime. Dobbiamo riconoscere chi è in prima fila, sindaci, amministratori con il loro impegno e oggi la braccia e la battaglia vanno certamente ad Alessio e a Pierre per quello che stanno facendo, ma è altrettanto vero che dinanzi ai conflitti aperti tra chi sente la sua esistenza protetta e chi arranca dal fondo un partito deve recuperare la sua idealità. E lo dico così, a noi non serve oggi un nuovo programma di governo perché non si voterà tra un mese neppure tra un anno noi dobbiamo incalzare la destra con battaglie, proposte alternative ma oggi a noi siamo qui per questo, con l'umiltà che dicevo ma oggi a noi serve di nuovo la potenza di un pensiero sul tempo che ci è toccato in sorte e nessuno, nessuno che sta qui in questa sala o che ci segue nessuno che si tratti di un nuovo leader o del migliore sindaco o di un futuro premier nessuno può affrontare quella sfida da solo per una volta proviamo a dirci la verità per come adesso questo partito non contiene tutte le risorse e le energie sociali, politiche, culturali, umane e talvolta morali per essere all'altezza di quella prova e guardate, non si tratta di tornare indietro non è nel passato che troveremo le risposte per oggi il tema è ricostruire una cultura della democrazia che diventi popolare e condivisa questo sì, tanto più ora di fronte all'astensione di 18 milioni di italiani e tanto più con una destra che utilizzerà la minaccia del presidenzialismo dell'autonomia differenziata per ottenere gli obiettivi che avete benissimo raccontato ecco perché la Costituente va proseguita ed ecco perché non basta ripetere e torniamo nelle periferie il punto è che quando noi siamo sfuggiti dall'immaginare un futuro che non fosse solo una buona pratica di governo noi abbiamo perso ecco perché ci siamo siamo arrivati tardi chiudo rapidamente siamo arrivati tardi? ma lo chiedo io a me stesso tardi rispetto a che cosa? tardi? nonostante in 15 anni di vita del PD abbiamo perso 6 milioni di voti tardi rispetto all'avere cambiato 9 segretari pensando ogni volta che bastassero un nome un volto diverso a sciogliere nodi mai sciolti tardi a fronte di 3 scissioni la verità è che la sola cosa che da anni non facciamo più è tornare a essere di esempio ma bisogna farlo perché altrimenti a prevalere saranno altre passioni quelle più tristi e dobbiamo pretendere da noi stessi di essere credibili nell'unire la bandiera dei diritti e tocca farlo a noi perché abbiamo scelto la bussola della dignità la dignità della persona che non è mai scomponibile sono i diritti di ciascuno e sono i doveri del rispetto delle leggi della lotta alle mafie della responsabilità verso gli altri sono la vita vissuta di chi ha perso fiducia nella parte che noi vogliamo rappresentare perché un partito deve parlare a tutti ma un partito è parte allora vedete le ultime cose che voglio dirvi sono queste è giusto invocare l'unità di questo partito ma l'unità non è un accordo tra i vertici o tra le aree quell'unità vive nella lettura della società di come la rappresenti di chi sei quanti operai lavoratori insegnanti quanti giovani e donne abbiamo la volontà di promuovere nella direzione politica nelle istituzioni e d'altra parte lo so io lo sapete voi che così com'è questo partito non va troppe volte in troppi luoghi semplicemente questo partito non c'è non sai letteralmente dove trovarlo io penso che per rifarne una comunità la sola via è delegare a quella comunità dei poteri veri riconoscerla nelle azioni nelle scelte ecco perché la nostra proposta è che la costituente finisca con il ripensamento profondo radicale della forma che oggi questo partito del suo modo di essere discutere decidere maggiore potere agli iscritti vuol dire restituire loro il compito di eleggere la mia opinione è questa il segretario o la segretaria riservando le primarie l'indicazione del candidato della candidata premier so per primo so io per primo che questa proposta per avere un senso deve riportare gli iscritti le persone in carne ed ossa dentro i circoli di rifondare e va fatto perché quando si consume lo scontro tra autocrazia e democrazia tra destra e sinistra solo alimentando la passione gli strumenti per battersi quella sfida si può vincere se noi non facciamo questo possiamo cambiare la leadership ma tutto si essiccherà e dipenderà dal singolo eletto e ognuno cercherà riparo nella sicurezza nello status quo mentre noi abbiamo bisogno di riscoprire un senso critico e per farlo serve anche nella vita come nella politica a volte una piccola dose di rischio guardate per tutti in questo congresso c'era una scelta più comoda lo sapete c'era anche per me una scelta più comoda poteva esserci in questi anni quando alcuni di noi sono stati in minoranza non ben accolta e una scelta più comoda poteva esserci ora anche perché siamo tutti alle prese con uno statuto di cui Enrico non ha alcuna responsabilità che non favorisce il pluralismo io penso che queste regole andranno cambiate perché così come sono demoliscono l'unità del partito riducono le primarie ad una sfida maggioritaria dove ancora una volta chi vince chiunque dovesse vincere può non lo farà ma potrebbe prendere tutto è già accaduto abbiamo visto il risultato ma una comunità di senso non è un tabellone del risico un grande partito non vive così così si spegne così distrugge deprime il suo pluralismo quel pluralismo che non è mai un ostacolo all'unità il pluralismo in un partito come il nostro è la premessa per cercare le sintesi che dell'unità sono sempre il punto di forza io quello statuto l'ho votato e mi assumo per intero la mia quota di responsabilità ho sbagliato a farlo e sono reo confesso ma siccome a comandare sono qui sono stati molti che hanno votato anche un pessimo jobs act mi perdonerete se considero il mio peccato con una certa indulgenza e però e però dico che abbiamo sbagliato ce lo dimostra la realtà di un partito che oggi è malato e non per la passione senza limiti di tanti nostri militanti dei segretari di circolo ma per come si è concepita la partecipazione l'ascolto io non so più dirvi non lo so quante decine di federazioni in questo paese sono commissariate io non so da quanti anni non si sceglie di avere cura di questa comunità di donne uomini dei tanti giovani democratici che chiedono un partito diverso l'ho già detto io ci sono con umiltà so bene so bene chi sono i favoriti ma la scelta era tra l'acquattarsi magari trattare dei posti o usare questo spazio per una discussione vera dove dirsi con sincerità che rifugiarsi nelle primarie è una fuga dagli errori e ve lo chiedo per favore smettiamola di dire guardiamo avanti solo per giustificare le troppe rimozioni basta dire giovani e magari non eleggerne nessuno basta definirsi femministi e non rispettare le regole come da ultimo in Puglia e altrove vedete anche per tutto questo abbiamo scelto di alzarci e di parlare ma ve lo voglio dire nella maniera più semplice e sincera se siamo qui non dovrei dirlo questo ma ve lo dico lo stesso se siamo qui non è per disturbare se ci siamo con le nostre idee perché in un passaggio tanto decisivo io credo sia giusto che la libertà del pensiero dell'idealità dell'identità debba dichiararsi e misurarsi con gli altri come avverrà nella prima fase del congresso dove discutere e votare saranno gli iscritti quello che per tutti noi tutti noi dovrebbe essere il momento più alto più prezioso e fatemi dire senza polemica che se anche solo la metà del tempo dedicato a discutere sul voto online lo avessimo dedicato a una campagna per l'iscrizione al partito democratico non avrebbe guadagnato la nostra immagine e un grammo della nostra credibilità il punto è che accettare lo status quo almeno per quanto mi riguarda sarebbe stato un venir meno alla nostra storia un investimento sul futuro e lo penso per un'ultima ragione perché voi lo sapete meglio di me l'Italia nel tempo lungo ha conosciuto classi dirigenti diverse nel bene come nel male ma una malattia questo paese non ha mai saputo curare ed è stata quella del trasformismo del dire una cosa e subito dopo fingere di essere appena arrivati da tutt'altra parte i guasti di questo modo di agire di pensare sono stati profondi per questo potrà sembrare strano che sia io qui a difendere i governi di cui siamo stati parte mentre alcuni tra quanti in quei governi c'erano l'hanno sostenuti col seno di poi sembrano scordarlo ecco io penso che se attorno a quelle scelte noi avessimo consultato i nostri iscritti spiegando i motivi di passi difficili tanti nostri compagni amici avrebbero detto di sì che erano passi difficili ma giusti se lo avessimo fatto se li avessimo davvero ascoltati noi avremmo attrezzato questa forza condividendo il governo compreso l'ultimo di Mario Draghi come una necessità per il paese ma senza appiattirci su quelle esperienze rivendicando una nostra autonomia di sguardo di visione e di futuro per tutto questo pensiamo a un partito che restituisce voce e potere anche a chi non siede nelle istituzioni solo che per farlo non è possibile che chi dirige il partito pensi a sé e al proprio destino parlo di tutti i livelli prima che a quella della comunità di cui è parte insomma questa è la chiave di quella che abbiamo chiamato una promessa democratica promessa e parola impegnativa al fondo però che parliamo di salari diritto a curarsi o studiare fisco e sulle promesse mancate che molti hanno smarito la fiducia verso di noi e noi siamo qui in questo confronto perché quella fiducia vogliamo recuperarla il punto è se questo è un congresso che scommette o non scommette sul PD noi vogliamo scommettere su questa comunità e su questa dimensione e vogliamo farlo non limitandoci a seguire l'onda o le onde al fondo se l'avessimo fatto saremmo venuti un po' meno a noi stessi io credo e spero che sia un fatto positivo anche per gli altri candidati allora come riassumere tutto questo ripensare rifondare questo partito dare più potere a chi si aderisce riportiamo la società nelle istituzioni costruiamo l'alternativa alla destra del basso restituiamo il nostro progetto alla sua ragione di fondo la radice della democrazia infine un partito è tante cose anche sentimento affettività è indignazione è essere esempio noi vogliamo dare una mano sul sentiero giusto se mai dovesse toccare a me io dedicherei a quel sentiero l'impegno più totale perché penso che si possa far bene un mestiere alla volta per una scelta sbagliata io lo riconosco una volta mi sono dimesso da presidente di questo partito ma per le convinzioni di una vita per due volte e mai avrei immaginato da ragazzo che poteva accadermi questo nella vita per due volte ho declinato la proposta di entrare nel governo del mio paese e di quest'ultima cosa non sono pentito perché io non ho l'ambizione né la capacità per essere un buon uomo di governo a differenza di altre altre che vedo qui davanti a me e che invece quella capacità ce l'hanno so chi sono ma so che con tutto me stesso io vorrei dedicarmi alla costruzione di un nuovo partito democratico perché? perché ci credo perché ci ho sempre creduto perché ci sono rimasto anche quando non era semplice farlo perché vorrei poterci credere ancora e allora leggo la mattina come voi la rassegna stampa ascolto i talk della televisione leggo sento le ironie il sarcasmo a volte la denigrazione su di noi viene da pulpiti diversi e guardate vi ho appena detto che so chi sono e so che in questo momento tra di noi non ci sono né Sturzo né Gramsci né Moro Berninguer o Tinanselmio né Il Dejotti però noi non siamo neppure la reincarnazione nell'oggi di Brancaleone da Norcia noi siamo un partito cosciente dei limiti e degli errori che abbiamo compiuti ma noi siamo una comunità pensante di donne e uomini che hanno passione abbiamo bisogno di riscattare una storia che abbiamo alle spalle per collocare quella storia nel tempo futuro dove stiamo andando è giusto criticarci e lo faranno anche stasera o domani o nei prossimi giorni sarà anche giusto fare dell'ironia quando sbagliamo però io penso che tutti noi da qui da questa sala da questa giornata dobbiamo chiedere rispetto per la comunità del partito democratico buona fortuna a tutti noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti